da parte di tecnici, mentre qui andiamo a vedere dall'aeronautica invece andiamo a una rappresentante dell'esercito, Vanessa Ferrari, parallele asimmetrica. Intanto questo passaggio è sempre molto bello, gran volta a Cubitale con un giro, diretto Jäger, e ancora adesso Vachov, dall'equipe si posiziona in verticale, Tarzan perfettamente in verticale, ritorna allo stagio alto, capo a volte in verticale, caricamento delle gran volte, Zucara di finale, doppio indietro con un abitamento. Abbiamo visto anche recentemente proprio Vanessa in allenamento, ha ottenuto, sta recuperando via via una condizione sempre più convincente, ed è soprattutto, ecco qui intanto il Kacev, sotto lo sguardo di Casella, e ottiene 14,35. Dunque abbiamo visto due punteggi interessanti, i primi consistenti a livello internazionale, 15 di Busnari, 14,35 di Vanessa Ferrari, adesso andiamo a vedere agli anelli Andrea Cingolani.